Allora dopo gara e finalmente arriva la vittoria per il Lennettuno che mancava da tanto tempo dalla terza giornata insieme a uno degli artefici di questo successo una doppietta non era mai accaduto per Belleudi, sorride ma ha una dedica speciale per questa vittoria Sì, anche se avevamo molti giocatori che erano assenti a questa partita abbiamo vinto bene e la vittoria è dedicata al mister che oggi purtroppo era assente perché non si sentia molto in forma Bene, comunque problemi di salute, sicuramente arriverà questa splendida dedica da parte proprio di Belleudi ma andiamo un po' a parlare di questa vittoria, una vittoria che comunque serviva a questa squadra nonostante nelle partite precedenti avevate comunque dimostrato di meritare qualcosa di più Sì, beh abbiamo iniziato con il giorno d'andata a rigiocare bene come ci ha insegnato il mister e sicuramente come ci diceva il mister D'Amando le vittorie se si gioca bene prima o poi arrivano Ecco, una vittoria sfumata nelle precedenti gare anche se avete affrontato comunque il team di un certo rispetto avete il fortituto Pomezia, United d'Aprilia tra l'altro persa proprio nei minuti finali con una ghiotta occasione proprio per agguantare il pari e oggi in questo derby ha forse un sapore un po' particolare questa vittoria Beh certo, vincere il derby è sempre bello la sconfitta con lo United d'Aprilia comunque diciamo non ci ha tirato giù di morale era importante vincere oggi e abbiamo vinto Bene, grazie a Belleudi lo lasciamo andare a fare la doccia intendiamo anche comunque l'arrivo di un altro giocatore dell'Ele Nettuno ecco, Criscione questa vittoria come diceva anche Belleudi dedicata al vostro tecnico che per problemi di salute non è oggi presente con voi una vittoria che comunque mancava e dà morale forse anche seguito a un buon momento un po' altalenante ma comunque nelle ultime giornate qualcosa si era già visto Sì, le ultime partite per un male sia a livello fisico che a livello del gioco un pochettino eravamo migliorati poi i risultati si erano un po' altalenanti però comunque sia a livello fisico che a livello del gioco c'eravamo un minimo ritrovati oggi la vittoria era importante perché uno per il derby, due per la classifica speriamo venerdì di riuscire da seguito comunque a questa vittoria perché comunque è un campo difficile però comunque Rocca Massima se giochiamo come sappiamo penso che se possa fare tre punti Ecco, quel Rocca Massima che tra l'altro proprio all'andata vi soffiò un punto fu un pareggio poi da quella partita a voi ci furono soltanto delusioni, praticamente amarezze perché arrivarono soltanto sconfitte Sì, da Rocca Massima la partita è andata praticamente è iniziato il periodo un po' dove c'eravamo persi però spero che adesso al di là del risultato che sarà a Rocca Massima spero che da quella dopo a Rocca Massima non facciamo come al giro di andata perché comprometteremmo sicuramente l'accesso agli eventuali play-off facendo un giro di ritorno come quello di andata Ecco, che cosa manca appunto a questa squadra con questi risultati soprattutto gli ultimi risultati buoni per poter comunque tenere alta un po' il trend positivo? Ma già se tornassero tutti gli infortunati che abbiamo cominciato da Frattici a Lannocca e via dicendo penso che mancherebbe veramente niente purtroppo i fortunati fanno parte del gioco è un anno che comunque non ce li abbiamo come continuano a mancare continueranno a mancare anche in futuro spero che però abbiamo trovato la quadratura anche senza di loro Bene, grazie a Crescione lo salutiamo e da una sponda praticamente passiamo ad un'altra un derby ancora amaro per il Libbo il presidente Francesco Pace ne è consapevole di questi ormai risultati di settimana in settimana non riescono a farlo gioire proprio a livello personale ma non riescono neanche a far sorridere questo sodalizio che è comunque partito per fare qualcosa di meglio almeno in questa stagione ricordando che è comunque il suo secondo anno di vita soltanto paziettando ci dice ogni fine settimana qualche cosa arriverà anche a farci gioire noi ci speriamo sempre purtroppo non è che si vuole accampare scuse questa settimana qua ci abbiamo avuto problemi di malanni di stagione per qualche giocatore impegni di lavoro per cui ci siamo potuti allenare poco purtroppo il numero dei giocatori è esiguo e quindi di conseguenza ecco quando siamo in campo non riusciamo a fare quel poco che in altre partite siamo riusciti a fare insomma ecco presidente ma abbiamo avuto l'esperienza nella scorsa stagione di praticamente di disputare un campionato sul fronte nella provincia di Roma quest'anno vi trovate nella provincia di Latina forse ci sono più difficoltà sull'uno se l'altro però c'è qualcosa che si sta muovendo anche lentamente nel vostro sodalizio per il futuro sì penso di sì cioè noi ripeto quest'anno è come se avessimo ricominciato da capo perché abbiamo fatto all'inizio dei 5-6 innesti nuovi e quindi è come se avessimo ricominciato di nuovo purtroppo poi purtroppo per fortuna per i ragazzi qualcuno ha trovato lavoro per cui ci ha dovuto lasciare e però ecco poi piano piano abbiamo sempre qualche problemino e non riusciamo a trovare la quadratura del cerchio insomma che cosa manca allora a questa squadra non lo so forse certe volte manca anche un po' di fiducia perché certo la fiducia si può avere solamente con i risultati positivi però a volte ci demoralizziamo subito magari quando prendiamo un gol due e perdiamo proprio come dire la bussola è di conseguenza poi frutto magari anche di inesperienza perché sono ragazzi che vengono dal calcio a 11 calcio a 5 è tutta un'altra realtà è un altro sport anche se simile al calcio a 11 però è difficile entrarci in questa mentalità bene grazie comunque al presidente Francesco Pace per la sua disponibilità nonostante sia arrivata una nuova battuta del resto attendiamo forse l'ultimo protagonista di questa sfida con Massimo Zaino chiamato in panchina proprio questo oggi a lui chiediamo forse un po' più un ragguaglio salutando con l'occasione l'amico Gino D'Amando non presente per problemi di salute però ci arrivano delle notizie confortanti almeno rassicuranti per il momento non siamo nelle condizioni di poter dare un bollettino medico anche perché non è di nostra competenza l'abbiamo appena sentito F è contento per la vittoria sta un po' meglio speriamo che si rimette subito che è il nostro il nostro faro come si dice oggi l'ho dovuto sostituire con piacere i ragazzi hanno fatto una bella partita anche dedicata a lui questa vittoria Zaino tornare in panchina dopo alcuni anni che tu hai fatto questa scelta di poter guidare delle squadre giovanili ti sei messo un po' tra virgolette in disparte anche perché tu guidi comunque almeno in questa società la formazione la prima formazione giovanile l'Under 21 un'esperienza che comunque oggi si è vista anche perché hai tentato di mettere giovani e nel corso della stagione fino a questo momento hai più volte proposto al tecnico diciamo il tuo superiore D'Amando alcuni giovani interessanti sì quest'anno ha iniziato questa nuova avventura con l'Under 21 regionale che sta dando abbastanza benino non bene però è il primo anno quindi ci sono vari problemi stiamo collaborando con Gino pure con la prima squadra quindi i ragazzi con loro sto sempre con loro quindi pure il sabato è stata una sostituzione naturale nel senso che non c'è stato nessun problema con i ragazzi poi ho messo a disposizione la mia esperienza decennale in questa categoria quindi ho provato a dare qualcosa pure di mio oggi bene grazie anche dal mister Zaino un saluto particolare e una dedica di pronta guarigione proprio a Gino D'Amando grazie a tutti grazie a tutti